Questa è la diga del pan perduto che si trova a Somma Lombardo ed è la diga dove inizia il canale Viloresi. Questo è il fiume Ticino. Guardate da qua si vede anche meglio, è veramente un bel posto, una costruzione veramente molto molto bella, con un panorama comunque molto bello. Qui è il punto esatto dove inizia il canale Viloresi. La presentazione iniziò nel 1862 da parte di Eugenio Viloresi. I lavori iniziarono nel 1882. Nel 1884 venne inaugurato il primo troncone di 45 chilometri. I lavori terminarono nel 1888, quindi soltanto sei anni per realizzare il canale Viloresi. Il corso principale è lungo 86 chilometri. Se poi e dopo andiamo a contare i canali secondari, lì si raggiungono anche migliaia di chilometri. Adesso dirvi di preciso quanto sono non lo so. Comunque questo qua è il punto dove inizia il Viloresi.